Le novità principali di questo FC25 a livello di giocatori aggiunti Come sappiamo già da qualche anno a questa parte EA, Electronic Arts, ogni anno non fa altro che aggiungere Meno male, devo dire, così abbiamo sempre giocatori nuovi Non fa altro che raggiungere le Icon e le Hero Ripeto, importantissima questa cosa Se mi fate domande tipo Perché non c'è Maradona, perché non mettono Totti, perché non mettono Platini Vi ricordo che tutti questi giocatori che vedete Saranno ufficiali chiaramente, stats ufficiali Questi giocatori ovviamente sono stati pagati da Electronic Arts Quindi Electronic Arts evita di andare a includere nel gioco Giocatori come Adriano, o giocatori che hanno problemi con la legge Insomma, UEA è stato elevato perché in politica anche Prima c'era anche UEA, interessantissimo Però è stato elevato perché era in politica Come dicevo prima, Electronic Arts come sceglie questi giocatori? Li sceglie in base alle loro preferenze Cioè se loro ovviamente vogliono entrare nel gioco E vogliono essere pagati per chiaramente entrare e far parte di questo FC25 Stipolano un contratto, UEA li paga E loro si fanno a prendere i soldi Quest'anno ad esempio sarà giunto il Queste Hero Ok ragazzi, sicuramente le più importanti a mio avviso saranno Maicon, Guti, Zeroberto che avrà la quinta stella skill Ma il tre piedebole Stam che potrebbe essere un grandissimo giocatore Amsic che avrà il 5 stelle piedebole e il 4 stelle skills Ricordo Napoli licenziato quest'anno insieme alla Roma Saranno parte dell'ufficiale del gioco insieme alla Juventus E poi abbiamo sicuramente Carragher che potrebbe essere un buon giocatore Se li dovessero fare delle statistiche un po' più alte di velocità Perché in questa prima versione siamo un po' lentino MatoID che potrebbe essere una buona mezzala Signori, attenzione anche al doppio ruolo che potrebbe avere MatoID Perché potrebbe avere anche il... Vabbè, magari potrebbe avere il TS come lo utilizzava Allegri Però vedremo ragazzi Cdccc ragazzi Occhio perché potrebbe essere un bel giocatore E lui aveva anche un bel body type MatoID Non era un po' grosso fisicamente Ma era un giocatore abbastanza agile e veloce Non male Occhio a Guti perché potrebbe essere una mezzala molto molto interessante Poi vedremo anche il meta quale sarà Vedremo anche soprattutto ragazzi cosa chiederà Il gioco Comunque queste sono le hero ufficiali Almeno per quanto riguarda Questa prima parte di FC25 Poi non so se nel corso del gioco ne usciranno altre Però queste sono quelle iniziali presentate Con le statistiche ufficiali Chiaramente ragazzi Chiedetemi se avete domande Tutto quello che volete Io tanto tanto vi rispondo Ragazzi non è un problema Fatemi sapere tutte le cose che volete vedere Per quanto riguarda il nuovo gioco Per quanto riguarda il FC25 Fatemi sapere se magari volete Delle altre spiegazioni Se avete delle domande io ovviamente vi rispondo E vi faccio chiarezza un po' su tutto Non mi fa impazzire Hazard Marco Lino perché? Non perché sia scarso Hazard Non mi fa impazzire perché è basso È basso E me lo aspetto un 4 stelle skill Abbinato a un 4 stelle piedebole Non credo che aveva la 5 stella skills Anche perché Non l'abbè avuta su FIFA Nei vecchi FIFA Mentre Vishamsic aveva la 5 stella piedebole E gliela l'hanno lasciata anche in questa hero Quindi queste sono le hero Diciamo ufficiali del gioco Per quanto riguarda invece Il discorso delle icon Ragazzi queste saranno Tutte le icon ufficiali Del nuovo FC 25 Signori Che ne pensate? Queste saranno tutte quante Le icon ufficiali del nuovo FC 25 Allora Come dicevo anche prima Sicuramente ragazzi Mi aspettavo forse Un nome un po' più altisonante Il mio desiderio era quello Di vedere Francesco Totti Su FC 25 Non ci sarà Francesco Totti Non ci sarà un ritorno di Maradona Nonostante il Napoli Insieme alla Roma Come dicevo poc'anzi Ha guadagnato la parte Ufficiale del gioco Però qui abbiamo ragazzi Dei giocatori che potrebbero essere Molto molto interessanti Ricordiamo che la Shelly Potrebbe essere un attaccante Molto interessante Occhio a Turama Perché potrebbe fare il DC Oltre che il terzino destro Quindi doppio ruolo Molto importante E la domanda Che viene fatta più spesso Anche su IG ragazzi Mi è stata fatta questa domanda Perché Buffon Ha meno di Enger Ragazzi Dove te calcolare che Le icone donna Hanno un overall Rispettivo alla loro categoria Non è che Lei è più forte di Buffon E Buffon ha 91 E lei 92 No Non è così Anche se comunque Gli Ashi Ne è vero Come ho detto prima Che comunque Ha 94 di retta Quindi Buffon Effettivamente Potevano farlo un po' più forte Ma non vi preoccupate Perché Buffon Essendo testimonia L'ufficiale del gioco Tranquillamente Avrà versioni speciali Molto interessanti Secondo me Sarà in game Molto 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 forte Ragazzi Quindi attenzione Ragazzi Grazie Delpone Comunque per il quarto mese Bentornato Gentilissimo davvero Grazie mille E c'è anche Delvote 04 Anche se Cos'è il figlio Grazie Delvone Anche a te per il ride Grazie mille Sia Delvote 1 Che Delvote 2 Mi sono perso i due I due alert Scusatemi ragazzi Un bacione Mi mando un bacione Grande grande Ma cos'è il tuo figlio Delvone Ma lo conosci? Fatelo Shot out Sia al buon Fate lo shot out Al buon Delvone Per favore ragazzi Scusatemi Mi sono perso un attimo I vari I vari messaggi Grazie di cuore Grazie di cuore Grazie di cuore Delvone Vi faccio Ti faccio anche lo shot out Ragazzi Seguitelo Dicevo Comandiamo caro Beh il avrà Non uno di piede debole Ma comunque avrà Tre stelle Piede debole Sicuramente Quante stelle skills Me lo aspetto Un grande trattore Sulla fascia Gareth Bale Signori Se avete domande Per quanto riguarda Questi icon Io sinceramente Almeno per quanto riguarda Queste prime versioni Forse A parte Bale Sulla fascia A parte Durham Buffon Che sarà sicuramente Un grande portiere La Shelly Che potrebbe essere Mezzo interessante Faudi Con quelle statistiche Non mi fa impazzire Però Non mi dà Non mi dà Un grandissimo Colpo d'occhio Mi ama Potrebbe essere interessante Anche se Per un esterno In 84 di velocità Non è proprio Il massimo Della vita Vedremo Ragazzi Vedremo Un attimo Come saranno Gli altri Giotoli Pitchon Un po' troppo lento Non mi fa impazzire Sinceramente Vedremo Comunque in game Chi ovviamente Si rivelerà Interessante E chi no Questo pure un altro È un altro aspetto È un altro aspetto Molto importante Signore Adesso parliamo Di queste Di queste icon Allora Queste icon Voi dite Giallo Queste icon Ce l'avevamo anche L'anno scorso Che cosa c'è di nuovo Praticamente hanno cambiato Il Playstation Plus Principale Delle nuove Icon Di queste Di queste icon Quindi saranno nuove icon Ok ragazzi Praticamente Come vedete Gulit hanno messo L'Aerial Socrates hanno messo Il passaggio incisivo Insomma Garincia la serpentina Dreaming nello stretto Forse a Cruyff Avrei messo Il tiro a giro Forse a Cruyff Se i Daniel Hanno messo Il passaggio incisivo Chiaramente Poi vedremo anche Abbinato al nuovo gameplay Al nuovo meta Come sarà il nuovo meta Cosa richiederà il gioco Quali saranno Insomma Le varie I vari Playstation Plus Meta Quest'anno Secondo me Electronic Arts Diciamo Ha fatto bene A introdurre Questa nuova Questa nuova Diciamo Questa nuova skills Va Dei giocatori Secondo me Non sono stati brutti Playstation Plus L'unico problema È che Anna Certa Secondo me Non sono riusciti A equilibrarli bene Signori Secondo me La cosa è un po' sfuggita Di mano Anna Certa E di conseguenza Sono diventati Un po' troppo broken Un po' troppo rotti Per tutti Ragazzi Questi Playstation Plus Che però Bisogna dire Che comunque Uè Fabietto Bello Come stai? Eh no 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 Non sono stati così male Ragazzi Cioè alla fine L'unico problema Che Anna Certa Secondo me Hanno un po' Hanno un po' Diciamo Ressi giocatori Un po' troppo Rotti Quello è l'unico problema Ragazzi Dei Playstation Plus Secondo me Comunque questi sono quelli nuovi Eh Abile hanno messo anche il lancio L'hanno messo Magari Forse Pilo ci sono Finalmente ricordati Che c'aveva anche Il sinistro Comunque Magari Lo fanno 5 stelle Però mi aspetto Però mi aspetto Che l'anno prossimo Magari Cercheranno di fare Un gameplay Magari Dove anche i piccoletti Potranno giocare Decentemente Quest'anno Diciamo che Arrivata una certa Si giocavano tanto con Passaggi alti Gross Vediamo se Quest'anno magari Prenderanno anche Utilizzabili Anche i piccoletti Perché sinceramente È bello vedere sia L'utilizzo dei piccoletti Sia l'utilizzo dei giocatori Spilungoni Tipo Holland Eccetera 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 Staremo a vedere ragazzi È bello avere una via di mezzo Eh Però Gullit Fate conto che c'è anche L'Aerial Caprile quest'anno Cioè guarda Noi che figata Gullit Gullit c'è anche L'Aerial quest'anno Amica è male Buongiorno ragazzi Buongiorno a tutti quanti Perché arriva da adesso Non è male comunque Non è male Vediamo ragazzi Vediamo un attimo Vediamo un attimo Come sarà il gameplay Soprattutto Comunque queste Sono le cose Diciamo da segnalare Per quanto riguarda Icon e Hero Se avete domande Fatele pure Intanto vi rispondo Leggo sempre Tutti quanti I vostri commenti Però Credo di aver detto Un po' tutto quanto Perché comunque ragazzi Era Importante anche fare chiarezza Sulle tue Icon e le tue Hero Non credo che aggiungeranno Altre Icon e Hero Credo che per quest'anno Queste sono Sono quelle ufficiali Vi faccio rivedere di nuovo Le Hero ragazzi Che sono queste qui Sicuramente a me A me sinceramente Più che le Icon Mi mandano in hype Molto di più le Hero Cioè secondo me Ma Icon Icon Roberto e Guti Anche Stam potrebbe essere Molto forte Delle belle statistiche Poi ricordatevi che Stam L'hanno fatto Della Premier League Ma potrebbero fargli la versione Anche della Serie A Magari fanno la versione Del Milan Tranquillamente proprio E Maturi D Stessa cosa Ligan Ma faranno anche la versione Della Serie A Con la Juventus Sicuramente Comunque per quanto mi riguarda Per me le Hero Sono le più interessanti Regà Sono le più interessanti Vediamo un attimo Come si riveleranno Poi in game E poi per quanto riguarda Anche le Icon Carine però Ripeto Quello che mi interessava a me Era soprattutto Vedere Vedere magari Quel Totti che aspettiamo Da un botto di tempo Però vabbè Non arriverà neanche quest'anno Totti Vedremo l'anno prossimo Ragazzi Attendiamo magari Arriverà poi l'anno prossimo Direttamente Comunque queste qui sono Le Hero ufficiali Con le statistiche ufficiali Ovviamente Regà Se avete domande